Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo martedì l'alta pressione subtropicale raggiungerà l'apice dell'intensità su buona parte della penisola, soprattutto al centro e al sud, mentre il nord farà i conti con una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia che arriccherà dei temporali a tratti molto intensi. In Abruzzo giornata nel complesso stabile al mattino con cielo sereno. Nel pomeriggio possibilità di qualche isolato temporale nelle aree interne, principalmente in montagna. Parliamo di fenomeni abbastanza rapidi e isolati. Le temperature in ulteriore aumento massime tra i 33 e i 38 gradi. Minime, praticamente simili, tropicali tra i 21 gradi di L'Aquila e i 25 gradi di Pescara. L'appa si farà certamente sentire, soprattutto sulle basse quote e sulle coste. Ventilazione prevalentemente debole a regime di brezza. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.